buongiorno a tutti siamo alla fine di agosto e la temperatura comincia a calare un pochino finalmente anche in vista dei primi temporali qui è piovuto c'è una bella aria fresca sono circa 10 giorni mi sembra che manco dal mio canale per fare qualche interattivo perché giustamente un po di ferire fatte anch'io e un pochino di relax me lo sono preso in questa fine di agosto in cui sono cambiate tante cose ma in meglio ecco visto che mi visto che sono cambiato in meglio mi auguro che cambino in meglio anche per voi quindi ho detto facciamo subito un interattivo per vedere un po i desideri di chi guarda se si avverano o se hanno bisogno di lavorarci ancora sopra il trocco che usiamo in kumperberg che è un trocco molto bello che io apprezzo tra l'altro uno dei primi mazzi non in questa edizione ma nella precedente forse il primo mazzo che ho avuto o il secondo usiamo i maggiori minori tre carte 33 e poi usiamo l'oracolo degli animali le varianti sono 3 a b e c a questo punto io faccio un po di spazio mentre voi scegliete la variante che vi attira di più vi do qualche secondo e poi partiamo ok variante a vediamo se il desiderio di chi ha scelto la variante a si avvederà si avvederà mi cade l'appeso allora belle premesse sono buone premesse direi sono eccellenti perché comunque al di là dell'appeso le prime carte che escono non sono veramente buone il desiderio di chi ha scelto la variante a si avvederà ok allora prima variante si parte un po in sordina nonostante io abbia parlato di carte buone perché si parte con l'appeso quindi probabilmente è un qualcosa che è atteso dal tempo non credo che chi ha scelto questa variante abbia un desiderio inerente ai sentimenti che di solito sono un buon 70 per cento delle letture sui tarocchi però può anche starci il discorso del sentimento sicuramente si tratta di un desiderio che diciamo è stato covato da tanto o è fermo da tanto tempo perché comunque c'è l'appeso ma un desiderio anche che ha intanto preso gli oracoli degli animali un desiderio che ha sicuramente anche la sua buona dose di lavoro alle spalle perché l'appeso è una carta di fermo è vero ma è anche una carta di semina una carta anche di intuito se vogliamo riportarla alla leggenda di odino di semina come dice anche jodorowsky perché lui parla di semi che cadono da qui jodorowsky fa l'esempio del sole nascente che sta sorgendo fra le gambe dell'appeso quindi l'appeso è la carta di chi sta pazientemente attendendo e magari anche coltivando con saggezza e con lentezza il proprio orticello quindi qua è una cosa che da moltissimo tempo è in voi ora avete due carte che sono fra le più positive del mazzo allora si potrebbe pensare per alcuni che questo desiderio coinvolga altre persone perché comunque c'è il papa che anche a livello figurativo ci dice che come vedete in atto benedicente verso alcuni fedeli anche a livello figurativo ci dice che potrebbero essere coinvolte altre persone molto più a livello simbolico il papa parla comunque di come si può dire autorevolezza parla anche di nell'accezione tra virgolette negativa di dogma parla di proprie credenze di formazioni di di tutto ciò che è la nostra formazione mentale quindi spirituale anche per carità quindi anche la proprio può farsi riferimento può fare riferimento anche alla famiglia ecco diciamo ma può fare riferimento anche comunque a una una tradizione un qualcosa di tradizionale un qualcosa che ci portiamo nel dentro da 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 sempre praticamente perché comunque fa parte delle nostre radici quindi qua il desiderio lo legherei molto a un discorso di famiglia di radici o addirittura se fosse un desiderio legato al lavoro di attività legata a un contesto familiare sempre se se a questa cioè quello che dico se la variante non vi torna vuol dire che o magari non è la variante giusta dicono in molti a me non piace molto dire così però ultimamente devo dire che mi hanno sbugiardato alcuni video che ho seguito qua c'è proprio un discorso legato ad un lavoro o ad una cosa familiare quindi anche può essere anche benissimo un'eredità una che è da molto che è fermo però si risolve si risolve con l'imperatore quindi quindi è un sì diciamo che sul fatto di questo appeso che vedo qua ha influenzato molto il 4 di spade già le spade sono carte di conflitto il 4 di spade è una carta che tra l'altro parla proprio di meditazione di ritiro di solitudine di introspezione ma invita anche a cercare il modo di di riappacificarsi dopo un conflitto può consigliare al consultante di essere più tollerante e magari di accogliere in sé anche un po' di modestia perché magari non guasta nei rapporti personali quindi qua vi stanno dando la chiave per sbloccare qui quindi cercate un attimo il dialogo con gli altri coinvolti sicuramente è una situazione che non è impossibile da sbloccare però ecco ci deve essere una delle parti che fa un primo passo perché qua sicuramente ci sono coinvolte altre persone a questo punto potrebbe essere anche un discorso di eredità è comunque un qualcosa penso più a un discorso come ho detto prima di di attività a conduzione familiare ma potrebbe essere anche semplicemente un'eredità quindi qua in realtà vi invita un attimino a fare il primo passo voi per cercare di sanare questa situazione perché questa situazione in questo momento è ferma proprio perché state un attimino studiando le mosse affilando le spade anche nel vero senso della parola e state un attimino anche cercando un modo per uscirne quindi comunque anche il discorso della meditazione del ritiro che il quattro di spade va a dire ora tutto questo si sblocca in maniera abbastanza improvvisa perché l'otto di bastoni è una carta di velocità di azione anche di quelle azioni che vengono deliberatamente fatte per conseguire uno scopo quindi qui probabilmente se si fa questo primo passo non va male la cosa perché comunque alla fine la risoluzione l'otto di bastoni è proprio una carta di risoluzione abbastanza veloce se non addirittura in alcuni casi improvvisa di conflitti o di problemi in generale può rappresentare anche colpi di fulmine sì è vero può rappresentare anche viaggi può rappresentare anche associazioni eccetera quindi qua associazione potrebbe essere anche un'altra cosa riferita qui comunque coinvolge più persone questo desiderio sicuramente se fate il primo passo anche ripeto armati di modestia me le carte dicevano e cercate un modo personale questo viene trovato anche in maniera quasi improvvisa e in finale abbiamo l'imperatore che ci parla comunque di rinnovata e ritrovata stabilità per questo desiderio che alla fine va a concretizzarsi e va a rinnovarsi e ad essere più stabile ecco comunque alla fine le carte di la carta dell'imperatore è una carta di stabilità di sicurezza anche economica quindi comunque è una carta sicuramente importante se la lettura che gli ho dato è corretta e che la lettura possa essere corretta la risposta me la dà lotto di denari lotto di denari è proprio una una carta che rappresenta si autodisciplina impegno dedizione però di solito applicati all'abilità manuale quindi proprio al lavoro di fatto quindi qua c'è proprio un desiderio di ritrovare o sistemare una situazione che era rimasta ferma per tanto tempo e che si va a consolidare tramite una vostra una vostra richiesta però questa richiesta deve essere fatta con con sincerità ecco col cuore diciamo non deve essere fatta al cuore leggero se si trattasse eventualmente perché a questo punto potrebbe anche trattarsi di un discorso di contratto o rinnovato o portato a termine e scusatemi o come si dice portato da 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 termine affisso ecco insomma il senso è quello anche se le parole non sono giuste si tratta comunque di una vittoria vostra vi portate a casa sta vittoria però dovete avere il primo coraggio di fare il primo passo perché nel momento stesso in cui mostrato un attimino di più la volontà di riuscire a sistemare questa situazione dalla controparte sicuramente viene un invito a definire a rinnovare questa stabilità e tutto nel nome della cooperazione perché ripreso lotto di denari è una carta di proprio di abilità manuale quindi qua c'è proprio un accordo a livello lavorativo 90 per cento ripeto un qualcosa a conduzione familiare però ma può essere anche dei lavori da fare è proprio stiracchiare la lettura però in realtà questo accordo riuscite a raggiungerlo riuscite a ritrovare una rinnovata stabilità questo è un po quello che vi stanno dicendo veniamo a fare una tirata dell'oracolo degli animali per vedere che consiglio si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione 1 la versione a si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione a impara dal passato spirito dell'elefante quindi forse anche vi dicono che nel passato siate stati forse magari un po troppo tolleranti di fronte a certe situazioni e magari non avete osato fare il passo ora il discorso è che anche l'appeso può essere una carta che ti dice impara dal passato perché comunque parla anche appunto di stare lì a rimuginare su cosa è successo recidetelo questo passato recidetelo fate il primo passo voi e andate a sanare una situazione che diciamo che vi pesa abbastanza non sono carte così forti però comunque ecco magari questo primo desiderio più un desiderio di di stabilità che ci vorrebbe poco per realizzarlo ecco quindi niente la prima variante assolutamente positiva facciamo la seconda e vediamo che cosa esce fuori allora variante b si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la variante b vediamo un po se si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la variante b direi che non si è molto diverso rispetto a quello precedente vediamo anche i minori si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la variante b si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la variante b allora stavolta riguarda il sentimento mi sembra ma no perché c'è l'innamorato è che comunque l'innamorato è un po' di chi ha scelto il desiderio di chi ha scelto la variante b innamorato è una carta di bivio lo sappiamo può rappresentare anche il discorso in amore ci mancherebbe però una lettura molto molto filosofica molto misterica molto mistica poco poco pragmatica questa carta questa lettura qua ve lo spiego subito il perché perché qua c'è un bivio c'è una scelta c'è un qualcosa che vi ha costretti a subirla questa scelta perché nel passato o se l'avete fatta l'avete fatta dettata dalle circostanze può essere benissimo il discorso di un triangolo amoroso nel quale avete un attimino sofferto un attimino un attimino parecchio perché comunque certe scelte fanno soffrire può essere benissimo un discorso di bivio anche a livello lavorativo per carità perché comunque può essere anche un discorso fra lo scegliere due vie ma ripeto la vedo molto più mistica questa lettura qua molto la prima era molto più pragmatica questa è molto più però andiamo avanti magari viene fuori anche il lato un attimino più pragmatico allora qua avete quindi una carta di bivio una carta di bivio che vi sta a dire che il vostro desiderio è stato dettato anche dalle inevitabili casi della vita inevitabili casi della vita che vi hanno comunque portato a fare delle scelte o a subire delle scelte che non vi hanno proprio soddisfatto voi state cambiando state cambiando in maniera radicale state facendo una profonda pulizia di voi stessi del circostante di ciò che siate di chi avete intorno di ciò che fate state completamente rivoluzionando la vostra vita e direi che in un momento come questo siate anche abbastanza spersi o comunque se non lo siate state lentamente risorgendo da un periodo in cui vi sentivate proprio abbastanza spersi direi che qui c'è proprio un discorso di annullamento della vostra vecchia personalità tendenzialmente questa lettura di annullamento della personalità la si dà più alla torre però vedere una carta così forte come l'arcano 13 accanto all'innamorato che è una carta di bilio mi fa pensare proprio a un discorso di ripensamento della personalità che associerei molto a... però magari il discorso torre è che la torre è più diretta e più brutale invece comunque l'arcano 13 e l'innamorato sono comunque carte che danno quel margine di rinascita anzi l'arcano 13 la assicura nella rinascita e la rinascita c'è la rinascita c'è se il vostro desiderio riguarda l'amore sicuramente metto un po' di incenso scusate se il vostro desiderio riguarda l'amore sicuramente lo andate a trovare se il vostro desiderio riguarda il lavoro sicuramente questo lavoro non è lontano c'è comunque un accordo fra due parti c'è mettiamolo vicino anche c'è comunque un riconciliarsi anche se state aspettando un ritorno c'è un ritrovare la propria strada e riconnettersi con se stessi e questo desiderio che abbia radici molto profonde non immaginate forse nemmeno voi quanto perché vedo ve lo mostrerà quando l'avrete realizzato perché comunque il papa è una carta che si parla di riconciliazione si parla di saggezza superiore eccetera eccetera però parla anche è uscita anche prima e l'ho detto anche prima delle nostre radici quindi un desiderio che ci riporta veramente a chi siamo senza tutte queste sovrastrutture che per nostra fortuna la morte arcano 13 ha contribuito a demolire e sicuramente senza questa indecisione o questa decisione presa controvoglia o subita che ci ha comunque segnato abbastanza qua c'è una rinascita in arrivo molto forte sia essa in campo affettivo e lavorativo comunque il desiderio si realizza è un sì veniamo agli approfondimenti con i minori con l'otto di spade eh l'otto di spade è un impedimento alla fine di una crisi anche a una riflessione un desiderio di nuovi spazi eh può rappresentare anche un qualcuno che ci mente un qualcuno che ci tende una trappola ecco diciamo che la carta dell'otto di spade associata all'innamorato va un attimino a confermare quello che dicevo sul fatto che questa decisione o non l'avete presa a cuor leggero o vi ha veramente causato un momento di di crisi veramente forte perché comunque l'avete 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 subita ecco che cosa vi ha a cosa accompagnato la vostra ricostruzione l'accompagnata il 3 di denari una carta parla di talento parla di talento parla di miglioramento anche economico parla di impegno che porta ad uscire forse fondamentalmente non vi siate mai arresi ecco perché la carta che rappresenta la vostra trasformazione è la numero 13 perché alla fine avete osservato questo lumino fino in fondo dentro di voi e non l'avete mai perso nonostante qua vi sia arrivata una bacchiata veramente 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 forte però questo 3 di denari ci va a dire che comunque avete avuto una grande abilità sia mentale ma anche parla nel lavoro se questa fosse una lettura io la vedo più al sentimento ma se fosse riferibile al lavoro c'è anche un discorso comunque di abilità proprio manuale che che dà miglioramento economico proprio conoscenza perfetta di delle tecniche delle siano esse tecniche di lavorazione manuale che di progettazione eccetera cioè qua c'è proprio un rimettersi in gioco veramente forte ripartendo da ciò che sappiamo da ciò che vogliamo fare da ciò che per cui siamo ci siamo preparati ecco qua comunque siate praticamente ripartiti da avete come dicevo prima tagliato tutto tutte le sovrastrutture avete conservato solo il buono e avete agito con saggezza sia ripeto che si parli di sentimenti sia che si parli di azioni di amore scusate sentimenti azioni allora avete in futuro il papa e lotto di spade allora lotto di spade è una carta che dice che questa rinascita è dietro l'angolo perché è una carta di velocità a una carta di velocità è uscita anche prima lotto di spade una carta di velocità anche di associazioni di colpi di fulmini improvvisi di movimento movimento un movimento che procede che 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 ha già già uno scopo sa già quindi qua dietro l'angolo sceglie la realizzazione di questo desiderio voi a differenza della prima lettura dove si consigliava di agire in maniera un po più moderata qua voi proprio non dovete fare niente cioè ormai avete già fatto il lavoro grosso l'avete già fatto quindi qua voi dovete solo attendere certo ovviamente senza addormentarvi sugli allori e discorsi però qua dovete veramente soltanto attendere vediamo l'oracolo degli animali che cosa dice a proposito del desiderio della versione si realizza le tue idee come vi ho detto spirito dell'anguilla elettrica realizza le tue idee perché ormai ci sei come vedete proprio il discorso anguilla elettrica da anche proprio l'idea del fruire dell'energia quindi qua diciamo non attendete più perché sta arrivando ma non attendete più perché voi dovete certo voi dovete muovervi quello sì perché comunque se restate ve l'ho detto non addormentatevi sugli allori ma ormai ci siamo il vostro è un sì un sì pieno che voi avete già dato allora la versione sci vediamo cosa ci dice la versione sci si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione sci si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione sci si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione sci ok vediamo un po' allora qui la vedo invece un po più difficile la legherei anche questa al lavoro ma può essere legata anche agli affetti siano essi familiari o di amicizia eccetera anche effetti proprio diciamo si congiunti di conte perché comunque il sole mi rappresenta una realizzazione qua c'è nel passato una realizzazione verso la quale tendete un attimino a tornare un po troppo spesso quindi qua in realtà è come se vi dicessero il desiderio non ha al momento grandi possibili sviluppi perché cioè li avrebbe perché poi è il carro però poi in realtà torni sempre lì il problema è quello avete in chiusura l'eremita un discorso un po troppo lungo qua c'è proprio lungo di tempi perché qua in realtà secondo me il carro è più può essere il lato se fosse interpretazioni classiche il carro uno dice ok interpretazione classica lavoratore guerriero militare personaggio famoso comunque anche una carta legata alla carriera alla realizzazione eccetera va bene un po più metafisica si parlerebbe invece di carattere ecco secondo me qui è più un discorso di settare il vostro carattere e magari smetterlo un attimino di vivere nel passato perché comunque alla fine le esperienze passate questo sole qua difficilmente sembra che se voi continuate così tornerà a sorgere perché comunque è una qualcosa di cui magari non avete ancora metabolizzato l'insegnamento chiunque viene nella nostra vita ci viene perché ci insegna qualcosa quindi se voi non riuscite a superare questa questa cosa qua difficilmente riuscirete ad andare oltre ecco diciamo è una lettura molto 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 incentrata su su ciò che c'è tant'è vero che quando sono uscite due di carte sono uscite il 3 di bastoni che parla di intraprendenza di decisione di autocontrollo creatività iniziativa cioè il 3 di bastoni è una carta molto bella parla di tutto ciò che comunque è crescita però è uscito anche il 4 di denari che parla di è la controparte è l'avarizia è l'avidità l'ossessione per la materialità sicuramente in accezione positiva è buoni investimenti sicurezza eccetera però il fatto che queste due carte mi siano uscite insieme mi fa anche pensare che queste due cose si siano combinate quindi qua questo sole ve lo siete un attimino giocato forse perché o per interessi di qualche tipo quindi può essere benissimo un lavoro che siete andati a perdere cercando di puntare su un altro o ve lo siete giocato perché magari siete stati completamente se si trattasse di una cosa di amore ve lo siete un po' giocato perché magari siete stati completamente disarmonici e distanti da ciò che questo sole avrebbe potuto darvi come realizzazione e ve lo avrebbe potuto dare perché comunque il sole è una carta estremamente positiva voi sul carro avete il 3 di coppe 3 di coppe parla di evoluzione risoluzione di problemi di capacità di stare con gli altri ma parla anche di conclusione conclusione felice di un qualcosa quindi ciò che in questo momento potrebbe essere la vostra attuale situazione sta per subire un cambiamento un cambiamento dovuto anche al fatto che voi stessi comunque non siate felici in questa situazione non siete realizzati nonostante tutto il 3 di coppe dice anche che il momento ci si gode proprio a livello materiale però c'è il carro sopra sul sole tecnicamente potrebbero essere carte eccezionali se non ci fosse delle mita dietro il problema è tutto lì il problema è proprio quello quindi ci sta dicendo che sì in questo momento diciamo fra virgolette non vi manca niente vi manca questo sole qua quello che sia un lavoro che sia un affetto vi manca quel sole lì e quel sole lì vorrete andarlo a cercare perché comunque alla fine vi è vi è vi è rimasto dentro ora il primo è che ci andate a cercarlo quindi qua voi tornerete indietro allora il vostro desiderio fondamentalmente è quello di tornare indietro a questa situazione il fanta di bastoni di solito è proprio un legato all'amore proprio un innamoramento la fedeltà la sete di nuove esperienze la voglia di traguardi però conquistati in maniera sincera sicuramente rappresenta una persona dotata di entusiasmo però genuina ecco voi volete ritornare a questa situazione volete che sia così quindi qua in realtà sarebbe un ni perché dire un no però è lunga è lunga perché con ogni probabilità anche questo sole qua è cambiato in realtà non so sia ripeto non voglio fare non voglio fare essere monotematico sia si tratti di lavoro sia si tratti anche perché il lavoro sia un'azienda sia una situazione ha comunque il suo malgrado vissuto devastante esperienza covid per le aziende o per i singoli se è un qualcuno che è stato rimpiangendo del passato sicuramente a seguito di tutto sto movimento qua è cambiato anche lui o lei quindi qua c'è molto da lavorare molto molto veramente tanto quindi direi che è un ni vediamo cosa vi dicono gli oracoli degli animali allora si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione C si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione C si realizzerà il desiderio di chi ha scelto la versione C confida nella magia spirito del corvo bianco io invece non confiderrei ma non perché perché poi magari se qualcuno va a fare qualche rituale va a peggiorare le cose ora non mi ricordo questa carta cosa significa di preciso quindi vado a vedere allineati con il bene con le intenzioni più alte arriva a capire che a guidarti è il corvo bianco un alleato e messaggero dello spirito l'universo sta lavorando a tuo favore in questo momento attirandoti verso la luce donandoti la magia e i miracoli che sono tuoi di diritto è il momento di aver fiducia sì è il momento di aver fiducia sì diciamo che un po' anche come come diceva l'eremita tempi lunghi tempi molto lunghi sicuramente ci può essere anche un riavvicinamento a questo tipo di situazione o persona però comunque ci sarà da lavorare molto 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 non è una cosa che si risolve in tempi brevi bene io vi ringrazio prometto di farmi vedere un po' più spesso perché poi ripeto ho fatto qualche giorno di fare anch'io e quindi mi sono un attimino perso il canale youtube ci aggiorneremo presto con altri interattivi e vi invito se non l'avete ancora fatto a iscrivervi al canale e a mettere il like al video e vi do l'appuntamento alla prossima ciao 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 ciao